Stanno attaccando l'intera scuola, Henry Qui non siamo a seguito, dobbiamo proseguire Henry, di qua possiamo arrivare all'anguessa che avevamo Sì, quella porta conduce risposta Si sembra vicino No! Pochi passi e ci saremmo finiti sotto Manza morte! Sono riusciti a entrare nella scuola Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo raggiungere la rimessa per le varie Dove pensi di andare, Potter? Non perdete le tifiche Hai tu! Forza! Da questa parte! Stupi, Miju! Per il fritticusto, Taro! Sono freddo! Guardate giù! Qui dentro! Eccoli là! Il Signore Oscuro vuole fattere vivo! Che ho fatto, Taro! Sturateli! Valdemort ha i giorni contati! Lasciate in pace a Hogwarts! Comprendo! Il parco è caduto! Il castello sarà il trono! Le Arche Oscure non vinceranno mai! Questo è un peggio! Qui! È Potter! Guardate che sciocchi! Distruggere Hogwarts non vi servirà a nulla! Non riuscirete a prendere Hogwarts senza combattere! Adesso senti in qua! O ci proviamo o ci catturano qui! Cercate di tenere giù la testa! Oh no! Minchia la scuola è sotto attacco! Sembra che studenti e professori stiano cercando di farci guadagnare tempo! Laggiù! Dall'altra parte! Stortezza! Reggiù! Valdemortimento! Non riuscire! Qui! Guardate! Sì, stai facendo. C'è una nullità! Con fringo! Perchè non ti levati dai piedi? Non potete scurtirsi! Perchè non ti levati dai piedi? 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 Non potete combatterci l'Eterno! Non hai ancora via di fuga, Potter? Non hai speranze, Wesley? Arrenditi, Potter! Quanti altri moriranno per causa tua? Non lasciatelo fugire! Tipo! Che limiter Al turismo Perchè non fai tutto, è difficile founder? Caruccio! Sai come spettura al nord, ragazzo! Hai esagerato, credo! Manteneste la ragazzina! Crucial! Manteneste la ragazzina! Manteneste la ragazzina! Stupatezum! Stupatezum! Manteneste la ragazzina! Sontentere la ragazzina! C quarter 16, Locatezum! Services Mario & Arildo Cette pericône a différentes Ancali là! Non la faremo più cerchi! Enrici, stanno le cancagna! Gio Gio! Non potete rascondarmi! Non potete rascondarmi! Non potete rascondarmi! Non potete rascondarmi! Ecco fatto! Credo che stiamo vincendo! Non potete rascondarmi! 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 In posizione! All'attacco! Stop! Il ragazzo è qui! presto il ragazzo morirà per il signore oscuro butta la battetta ragazzo il ragazzo è qui e quello sarebbe un incantesimo non avrà mai Harry il braccio fermo dove sei tu verrai con noi e tre sicuro ci stanno aspettando c'era un pugno crucio ottimo lavoro Harry non resisteteci fermo dove sei tu verrai con noi stai attento fermo dove sei tu verrai con noi tu verrai Fermateli! Prima che... Presto! Attenti ai loro incantesimi! Harry Potter è qui! È qui! Non! 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 Che è il pò che è la mattina! Non! 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 Fermo dove sei, Potter! Tu verrai con noi! Il Signore Oscuro ha dei progetti per te! 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 Il Signore Oscuro non tollererà gli errori! Gli occhi del ragazzo sono colmi di paura! Il Signore Oscuro ha dei progetti per te! 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 Ma che scappino! Attenzione! Avete proprio un pezzo raso! Sto bevendo! Non potete fugire per sempre! Perché non ti levate dai piedi? Fermo dove sei, Potter! Tu verrai con noi! Stai attacco, Ernie! Fermo dove sei, Potter! Tu verrai con noi! Stai attacco, Ernie! Presto dovrete arrenderti! Non faccio! Non andrai lontano, Potter! Perché non ci lasciano un attimo? Vieni qui! Sappiamo che ci siete! Spari! Muoviamoci! Non dobbiamo perderli! Ah, guarda! Magi, pop! Ah! Grazie a tutti. 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 Non so come faremo senza di te. Grazie a tutti. 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 Nonostante tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui la situazione sembra terribile. Grazie a tutti. 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 Sto stufato, ragazzina! Non senta da stegna, ragazzina! Non farà il più del male a nessuno! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sì, raggiungiamo la rimessa per le barche e l'aspettiamo là! Sì, sono certo che ci raggiungerò! Altri margiamorte! Direi che la cosa ha senso! Voldemort è là sotto! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Attenzione! Attenzione! Ruccio! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Catturate il ragazzo! Il Signore Oscuro lo vuole! Credo che quello fosse l'ultimo! Ci stiamo avvicinando! Dobbiamo fare rumore! Aspettate! 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 Tu... Hai ucciso Silente! Finché tu vivi! La banchetta di Sambuco non può essere davvero mia! Mio signore! Uccisi! Prendili! Prendi i miei ricordi! Ai gli occhi di tua madre! Ma lei è morta! Suo figlio è vivo! E se davvero amavi Lillipotter lo proteggerai! Non è detto che il giovane Draco Malfoy riuscirà a ucciderti! Se fallisse... Il Signore Oscuro si rivolgerà a te! Non sopravviverò a questa maledizione! Però devi essere tu ad uccidermi! Però devi essere tu ad uccidermi! Solo così Voldemort si fiderà ciecamente di te! Non sopravviverò a te! Harry dovrà sapere una cosa quando Voldemort sarà vulnerabile! Quando Lillipotter gli fece da scudo! L'anatema che uccide rimbalzò! Un frammento dell'anima di Voldemort si agganciò all'unico essere vivente rimasto! Harry! Quando giungerà l'ora il ragazzo dovrà morire! Sì! E dovrà essere Voldemort a ucciderlo! Loro... Hanno ucciso Lupin... E Fred... Harry Potter... Mi rivolgo diretta! Raggiungimi nell'unico foresta caprica e affronta gli altri! Vieni qui e non verrà sbarso all'altro sangue. Ci vado. Subito. Sei pazzo? No! Io... Devo farlo. Ucciso il serpente resterà solo lui. Poi sarà tutto finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.